Carissimi amici, fratelle e sorelle, buongiorno. Oggi la liturgia della parola ci parla di tante cose. Gesù ci dice di stare attaccati a Lui perché senza di Lui non possiamo fare nulla, perché io sono la vita e muo i tracci, eccetera. Ma oggi sono colpito e quindi intendo leggervi di questa frase che sta all'inizio della seconda lettura, che San Giovanni Apostolo scrive nella sua prima lettera, versetto 18 del capitolo 3. Figliuoli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. Non amiamo a parole e con la lingua, ma con i fatti e nella verità. Non oso commentare, perché sono certo che San Giovanni è abbastanza chiaro. Né parole e né bla bla bla, ma fatti e verità. C'era una vecchia pubblicità che diceva meditate gente e vi lascio con questo pensiero, unitamente alla mia benedizione. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amo. Buona giornata a tutti. Ciao.